Ora la politica, poche settimane dal voto per il suo rinnovo. In Consiglio regionale sono entrati tre nuovi membri effettivi dell'Aula, al posto di tre esponenti del centro-destra eletti in Parlamento. Per due di loro sarà un'esperienza decisamente passeggera, mentre per il sindaco di Valvasone, candidato alle regionali, potrebbe trattarsi di un prologo. Poco dopo mezzogiorno, con il giuramento ufficiale, Luigi Cacitti, Micaela Sette e Marcus Maormair hanno assunto la carica di consigliere regionale per le poche settimane che rimangono prima delle elezioni. Subentrano a Luca Ciriani, Roberto Novelli e Renzo Tondo, eletti in Parlamento. I tre nel 2013 erano tutti candidati nelle liste del Popolo delle Libertà, ma ora seguiranno destini diversi. Cacitti è in polemica con il suo partito, Forza Italia, per la mancata candidatura di Riccardi a presidente. Entrerà nel gruppo di Fratelli d'Italia e Alternativa Popolare, a cui si aggiungerà la sigla Forza FWG. Sette, già sindaco di Latisana per due mandati e ora consigliere comunale, sarà invece nel gruppo di Forza Italia. Ma Maormair è l'unico del terzetto candidato alle prossime regionali, con il patto per l'autonomia, in quanto sindaco di Valvasone Arsene non potrebbe sommare i due incarichi. La mia intenzione, ha dichiarato, è prendere tempo e arrivare alla fine della consigliatura, rinunciando intanto all'indennità. Improbabile che Maormair decada, nell'eventualità per una serie di altre incompatibilità, lo scranno spetterebbe a Fabiano Filippin. Grazie. Grazie.